Oggi andiamo a presentare quello che è un progetto che in realtà esiste da tempo ma che oggi inizia con una veste nuova, una veste istituzionale in quanto andremo a sottoscrivere un protocollo d'intesa. Protocollo d'intesa che mette insieme i comuni di Aglie, Bairo, Torre Canavese, Via Alfrae, San Giorgio Canavese e Castellamonte che ha l'obiettivo di valorizzare un'area che si chiama Area della Morena Ovest. Un progetto che si è dal 2016, abbiamo iniziato con un evento che casualmente ci ha messo insieme. Da lì abbiamo iniziato ad acquisire la consapevolezza del fatto che l'operare a livello intercomunale, valorizzando i nostri percorsi, i nostri sentieri poteva essere una mossa vincente in chiave di sviluppo del turismo outdoor. Quindi negli anni immediatamente successivi abbiamo iniziato a puntare per fare degli investimenti su questo percorso e da qui nasce l'anello della Morena Ovest. Un anello che è stato infrastrutturato grazie a un finanziamento ottenuto dal GAL che ha consentito di innanzitutto poterlo comunicare nel modo giusto, poterlo caratterizzare declinandolo in chiave geologica. Non dimentichiamoci che qua siamo sull'anfiteatro morenico di Ivrea e questa è una piccola parte dell'anfiteatro morenico. Questo è l'obiettivo però è un punto di partenza e puntiamo certamente a far sì che nei prossimi anni il turismo outdoor possa svilupparsi sul nostro territorio anche e soprattutto grazie al progetto dell'anello della Morena Ovest.